Puntata un po' particolare di Dolomiti Turismo, questa gentili telespettatori e telespettatrici, perché oggi parliamo degli alpini, gli alpini sono in realtà molto importanti nel nostro territorio con qualche rigaduta anche turistica e noi ospitiamo un gruppo storico della provincia di Belluno con il cappello da alpino Michele Sacchetti, gruppo alpini di Salce, storico gruppo alpini di Salce, 60 anni, è un'occasione speciale per questo ti abbiamo invitato, perché fate un compleanno speciale con un programma davvero particolare, ma ho accennato prima ricadute turistiche, allora gli alpini avete organizzato tante manifestazioni, vogliamo ricordare la fiera del Pastim che richiamava se non sbaglio 15 mila visitatori, abbiamo fatto il primo anno 12 mila, qui ci sono anche ricadute turistiche, però con il sorriso e con lo spirito degli alpini, è questo il bello, vero? Allora, innanzitutto il buon vecchio detto mettere le gambe sod la tola per noi rimane sempre essenziale, è chiaro che gli alpini ci sono per fare protezione civile, per fare lavori e così, però noi alcuni anni fa su idea di un nostro socio Renato Bortot, che ha fatto anche in quell'occasione la maratona al centro di Belluno, avevamo organizzato con orgoglio la festa del Pastim, che si è conclusa al terzo anno con 15 mila presenze, nonostante che quella sera c'è stato vaia, per cui abbiamo rischiato anche di far scoppiare i capannoni, ma intanto la città era scoppiata veramente per tre giorni, con gente che ci chiedeva ma perché non la fate anche in primavera e non solo in ottobre, eravamo rimasti un po' scioccati positivamente dalla partecipazione anche da fuori provincia, perché basta che tu guardi questa settimana Mele Amel, noi col Pastim avevamo avuto veramente un successo eccezionale, movimentando fra l'altro macellai un po' di tutta la provincia, dall'Alpago, dal Mastro e così, perché è giusto secondo noi non solo Salce, non solo Belluno, ma muovere il territorio anche per chi ci lavora, ed era stata la bella festa. Salce è una piccola frazione chiaramente del capoluogo di provincia qui di Belluno, quanti siete iscritti al gruppo Alpini? Perché 60 anni per capire anche un po' la portata. Siamo a circa 160 più una quarantina di amici degli Alpini, perché sai che ci sono giustamente anche gli amici e i giovani che cerchiamo sempre di far partecipare, per chi ha passione della montagna, per chi ha passione anche e solo esclusivamente della città. Salce non è solo Salce, c'è anche Bettin, Giammosa, Casarine, ci sono tutta una serie, Sanfermo, tutte le altre piccole frazioni che sono tutte quelle frazioni che arrivando su dalla riva del Boscon arrivano in città. Salce nel 64, se posso parlare della storia del gruppo, è partito il gruppo su idea di Mario dell'Eva e di un gruppo di storici fondatori nostri, fra i quali mi piace ricordare la nostra roccia Bepi Savaris che quest'anno ha fatto 84 anni e che sarà presente alle manifestazioni, è stato creato nella primavera del 64 il gruppo, ma la giornata effettiva in cui hanno fatto la festa, in una giornata piovosa, ci sono delle fotografie storiche incredibili, erano inzuppati, tutti belli, in giacca e cravata, come una volta andavano alle adunate, il 25 ottobre del 64 hanno fatto l'inaugurazione, la festa inaugurale e quest'anno, la settimana prossima, il 26 ottobre, noi vogliamo invitare tutta la popolazione a un concerto presso il Teatro Comunale che abbiamo organizzato con l'aiuto intanto della sezione di Belluno, la sezione Anna di Belluno e con l'aiuto degli amici del Coro Minimo che ci porteranno il Coro Anna di Genova a cantare. La partecipazione è ovviamente aperta a tutti, noi lasciamo aperte le porte del teatro, se poi qualcuno vuole fare un'offerta libera va bene, ma noi vogliamo fare festa e la festa si fa fra amici e quindi apriamo le porte e il Comune. In un'oraio serale quindi immagino? Sì, dalle 8, 8 e mezza. Ci ha dato una gran mano anche la Fondazione Teatri e il Comune di Belluno che abbiamo avuto la possibilità tramite loro di avere il teatro gratuitamente, quindi per una piccola associazione come noi, risparmiare, risparmiare, ma non si esaurisce qui la festa, però anche il giorno dopo a salce, giusto? Sì, perché la serata finirà, perché questo è un po' l'antipasto, bello è assolutamente, però per il grande pubblico, la serata finirà ovviamente con una bella pasta asciutta che daremo a quelli dei Cori, verranno presso la nostra sede magari anche a cantare ancora un po' per noi, ma gli facciamo volentieri da mangiare. Il nostro gruppo cucina poi è impegnato il giorno dopo, però il giorno dopo inizia tutto con un ritrovo alle 9, 9 un quarto ci troveremo al centro commerciale di Salce, facciamo una piccola sfilata con la partecipazione di una banda di amici nostri del gruppo di Reana del Royale di Udine, ci sarà la Santa Messa, la deposizione di una corona in ricordo ai nostri caduti al monumento di Salce e poi sfileremo tutti verso la zona pranzo e il pomeriggio gambe soddattola e tutti a casa degli alpini di Salce per festeggiare il sessantesimo compleanno. Che bello veramente, qui specifichiamo domenica 27 per ottobre, non questa domenica. Sabato 26, domenica 27. Sabato 26, domenica 27. Quindi, senti, parlavi prima di ricambio generazionale, perché allora da quando la leva obbligatoria è stata abolita si teme che i giovani possano appassionarsi di meno agli alpini, come nel vostro gruppo? Il nostro gruppo vive anche di giovani appassionati ed è ovvio che arrivano gli appassionati di montagna, questo è il discorso. Non solo di montagna vivrà questa manifestazione e di giovani, ma vivrà anche di ricordi. Per l'occasione del sessantesimo verrà presentato, e lo dico con orgoglio, sabato sera, appena prima del concerto, poi sarà ovviamente in vendita, penso in tutti i locali della frazione. Abbiamo preparato un libro. Che lo abbiamo qui? Il libro, voleva essere il libro dei 60 anni di Salce, questa è la prima copia, adesso è in stampa e quindi arriverà fresco fresco in settimana. Il libro dei 60 anni di Salce doveva essere 60 anni di storie degli alpini, raccolti in un elenco incredibile di fotografie storiche raccolte da Armando Dal Ponte, che è storico, raccoglitore veramente delle storie delle famiglie di Salce. E poi ci siamo accorti che le fotografie erano così belle che abbiamo approfittato e non abbiamo fatto il libro dei 60 anni di Alpini Salce, ma è veramente la storia, due terzi delle foto sono storie delle famiglie salcesi. Che bello! Dalla pallavolo con Walter De Barba, al ciclismo, alle storie di immigrazione. Abbiamo messo dentro... Che non riguarda quindi solo propriamente la vostra attività, ma è uno spaccato della storia... Salcese, abbiamo raccolto oltre 400 fotografie in 186 pagine, è stato un bel lavoro, è il mio primo libro, per cui lo dico con orgoglio, è un regalo che comunque io, consigliere del gruppo, Stefano Brancher che è il capogruppo e tutto il consiglio, vuole fare non solo ai nostri soci, ma anche a tutti gli abitanti di Salce, ai salcesi e alle loro famiglie. Ne ho parlato stasettimana con alcuni amici che hanno trovato foto dei genitori, dei nonni e incredibili, hanno detto, avete trovato fuori delle foto. Per quanto tempo c'hai e ci avete lavorato a questo libro? Beh diciamo che su quest'estate non è stata facile, è stato tutto aiutato dal fatto che Armando Dal Ponte aveva messo via, insieme al nostro ex capogruppo Ezio Caldart, aveva messo via tutte le fotografie riposte e abbiamo trovato praticamente... potremmo già organizzare anche una mostra, però non ce l'abbiamo fatta. Ci sarebbe già pronto tutto per fare una mostra, ma il libro, già il libro di per sé... Intanto il libro, che sarà disponibile perché magari i nostri... Dalla sera del concerto, la nostra tipografia ci ha promesso, sì sì sì... Cioè si potrà già acquistare la sera del concerto, immagino che gli introiti vadano a finanziare quella che è la vostra attività, no? Intanto dovremmo... no, la nostra attività si sostiene da sola, noi gli introiti, la maggior parte dei nostri introiti vanno a donazioni per quanto riguarda altre associazioni, che sia che sia l'asilo di Salce, che sia la scuola, che sia fare un muretto, che sia rimettere a posto le fontane di Salce. Per quanto riguarda gli alpini, è chiaro che noi facciamo del bene e ci autosostentiamo, abbiamo tanta gente che ci vuole bene comunque, perché abbiamo anche il nostro Colmaor, abbiamo il nostro giornalino storico che è stato anche premiato due anni fa secondo premio stampa alpina nazionale. Il giornalino storico con quale periodicità? Lo facciamo trimestralmente e usciamo in 480-500 copie, per cui lo spediamo in giro anche all'estero, anche all'estero, e poi per quanto riguarda un ricordo che c'è dentro nel libro, ed è una cosa che vogliamo dire con orgoglio, quando c'è stato alcuni anni fa il terremoto in centro Italia, su Idea Mia e del gruppo abbiamo distribuito in tutta la provincia delle cassettine raccoglifondi, abbiamo messo insieme sia la sezione, erano in giro per i bar, e allora grazie a noi, grazie al fatto che siamo riusciti a mettere insieme per la prima volta le tre sezioni alpini Cadore, Belluno e Feltre, raccogliemo oltre 90.000 euro e a volte anche dalle piccole cose, dalle persone semplici, dai piccoli gruppi, basta avere un'idea per seguire la compassione e nascono le grandi cose. Anche perché la manutenzione del territorio, la socialità, sono tutte cose che in una provincia turistica spingono anche il turista, il turista quando vede una bella accoglienza, un arredo urbano dignitoso, il sorriso della popolazione è molto invogliato anche a venire a visitare i nostri luoghi. Tra l'altro Salce, oltre agli alpini, ha anche un gruppo di ragazzi che organizzano, penso sia proprio, non so se è stato questa settimana o sarà questo fine settimana, in giro a Paralloc, organizzano da alcuni anni un giro per le campagne serale, devi andare con la tua bella pila, ti portano a gruppi di 50 e organizzano un giro per le campagne salcesi che è una cosa meravigliosa da fare. Michele abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ribadiamo ai nostri telespettatori, quindi sabato 26 al Teatro Comunale di Benuno si canta e domenica 27 invece si fa festa a Salce. Ricordando sempre chi è andato avanti. Esatto, grazie a Michele Sacchetta, è stato un piacere e grazie a voi tutti per la gentile attenzione e appuntamento la settimana prossima. Grazie a tutti.